Ciao a tutti da Iota e bentornati sul canale. Oggi su Minecraft dobbiamo abbellire un po' l'esterno. Mi è venuta un'idea nel frattempo che pensavo nei meandri dei pensieri, ovvero perché non abbellire un po' l'esterno e farlo un pochettino più carino? E stavo pensando appunto di fare una cosa del genere. Allora, vediamo un po' se viene, anche perché poi qua ci andremo a mettere tutte le lanterne e quindi stavo pensando di fare una cosa del genere. Perché non corro più? Ah, perché sto morendo di fame. Quasi. Allora. Però l'altro esperimento che volevo fare era appunto vedere se potevo portarle fino alla fine. Se le porto fino alla fine è bello o brutto? Beh. Cioè, esteticamente, forse meglio qua. Vediamo, eh. Se io poi vado a mettere questo qui o questo qui. C'è una roba del genere? Qualcosa non mi sconfiffera. Forse è meglio così. Devo mangiare qualcosa, perché se no non mi corre il personaggio. Ok. Allora, questo qui e questo qui. Sopra, però, possiamo collegarli. Uno e due. Uno e due. Volendo possiamo farlo. Andiamo a mangiare qualcosa. Qui grano, come è finita? Aspetta, facciamo così. Prendiamo un po' di pesci, così mangiamo un po' di pesci. Che è successo? Ho raccolto qualcosa nel frattempo. Allora, piano piano, perché non posso correre. Allora. Uno, due e tre. Perfetto. Questo qua. Cos'è? Nuova ricetta che si può controllare. Che cavolo mi ha dato? Cos'è sta roba? Farina di ossa. Uh, clay, clay. Ce l'abbiamo qua l'argilla. Perfetto. Allora. Uno, due e tre. Sicuramente questi sono buoni. Allora, piantiamo. Due. Perfetto. Adesso che abbiamo la farina di ossa, io direi di gustare un attimino la crescita. Ok. Questo. Ce lo mangiamo. Bel panino. E qui andiamo a cuocere questo. Perfetto. Paletta. E andiamo a prendere la clay. E sembra essercene tanta, proprio. Ottimo. Questa non gli piaceva. Ok. 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 Saliamo. Prendiamo aria. Ci ributtiamo. Immersione. Prima. schedule. Oraенного. Contro. milliseconds. Quem è ? Mi piaceva. Io Galileo. Preparazione gira. Chate. Questa. Um. Grazie a tutti. Ok abbiamo tutta la clay che ci serviva ovvero quanta dunque qua ci abbiamo pesce cotto salmone cotto perfetto facciamo uno spuntino. Ok adesso con tutta questa clay non mi ricordo male dovevamo cuocerla giusto tipo così la cuociamo in argilla. Allora fammi vedere io volevo fare dei vasi non è baso non è baso argilla vediamo un attimo allora argilla. Cuociamola e vediamo cosa esce. Ah nel frattempo perché c'è un'altra cesta io? Mettila qua. Eh no però così mi fa la terracotta. Ah sì vero aspetta 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 ferma tutto ferma tutto perché non era la terracotta. Non era così si faceva il vaso no vero? Con la terracotta cosa ci faccio io? Non mi ricordo più come si faceva il vaso. Io faccio così due tre poi faccio così no fa sempre argilla. Quattro e cinque. Se invece cuocio questa diventano mattoni? Forse con i mattoni si faceva. Sì mattone. Nove certe sbloccate. Forse è il mattone. Mattone. Sì mi sa di sì. Potremmo farci un cammino. Stavo pensando di fare un cammino pure. Esatto vaso da fiori eccolo qua. E di questi ce ne servirà un pochettino. Ne facciamo uno, due, due, tre, quattro, cinque, direi un sei tipo. Ok allora così abbelliamo la casa. Vaso da fiori. Allora. Terracotta non so cosa farmene adesso. Ok. La luce. Mettiamo qua. E nel frattempo che lui fa quello andiamo a prendere un po' di fiori. Allora. E mo' i fiori dove li andiamo a prendere? Verso di là. Vediamo se c'è qualche fiorellino. Uh altra argilla. Buono. Non abbiamo una bussola quindi non dobbiamo allontanarci troppo. Cos'è che è quello lì? Ma qua quante abete ci sono? Io li ho piantati e ce ne abbiamo un sacco di qua. Ci possiamo mangiare. Ok. E di qua non c'è niente. Ecco. Oh che bella però eh. Andiamo a dormire perché non si vede più niente. E buongiorno. Allora. Dunque dunque. Qua dentro ci andiamo a mettere questi. Questi stanno cuocendo. Io lo vado a fare così. Facciamo altri due mattoni. E poi ci stoppiamo per un attimo. Perché. Credo che siamo a posto per adesso. La clay ce la andiamo a conservare. Questa pure, questa pure. Terracotta. Questa. Questa ci serve. Ed. Questa. Falta. 2. Perfetto. poi un vaso da fiori qui un vaso da fiori qua un altro va qua e uno lo andrei a mettere qua ah ce l'abbiamo un altro? un altro qui potremmo fare una ringhiera qua allora vediamo un attimo allora andiamo di qua e vediamo se ci sono dei fiori io non vedo neanche un fiore proprio zero oh ci sono due fiori trovati c'è anche della clay ottimo direi allora uno due tre quattro cinque e sei e siamo nelle profondità ma questo cos'è? rame? ce la faremo mai ce la faremo mai? per farlo dobbiamo fare così dobbiamo trovare un appoggio per farlo tipo ecco sbagliato che cavolo era? vai prendi fiato vai o o Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mi sono perso. Ma c'è altro rame, carbone. Mi sono perso veramente eh. No panico. Sarà di qua. Sarà di qua? Cacchio l'avevo fatto giusto? Avevo fatto la strada appunto per costeggiare il fiume. No le pecore non c'erano. Signori, mi sono perso. Allora, noi abbiamo preso qua le canne da zucchero e qua i fiori. Quindi siamo venuti da lì, dovremmo tornare di là. Sì, ok. Meno male. Uh. Per un attimo ho pensato di essermi perso. Allora. Salmone. Fiorellino. Fiorellino. Fiore. Fiore. E fiore. E' un fiorellino qua. E abbiamo la casa un pochettino più decente. Fiorellino. Eh? Rame. Rame, 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 rame. Smeltalo. Devo trovare il carbone. Ancora abbiamo qui un po' di clay che andiamo a mettere qua. Che cosa si fa con il rame? Parafulmini? Sì, parafulmini. Ne vuole tre. Ok. Tre. Parafulmini. Uno, due, tre. Parafulmini. Me ne fai altri due per favore. Uno. E due Perfetto Ok Adesso andiamo qua C'è la terra La prendiamo Saliamo sul tetto Con l'ascensore più veloce del mondo Ovvero questo E andiamo a piazzare i due paraformini Uno E due Le nostre antenne E ci abbiamo i paraformi Dovremmo fare un camino Un camino All'altezza di qua Tipo qua Che sale Però così Vabbè potremmo anche fare così Ta ta Si ci sta E per fare quel camino Abbiamo bisogno appunto Di queste Fino a quando ha finito questo Il carbone Andiamo a prendere Nel frattempo Io direi di Andare a visionare un attimo La nostra Caverna Qua La nostra cava Se non sbaglio Era da queste parti Esatto Si Ok Quindi dobbiamo andare di là Quindi dobbiamo fare un sentiero Che ci porti Da qui a là All'altezza di All'altezza di L'altra pala. Qua non mi piace come è fatto. Facciamo così. Sta facendo buio, come al solito. Non ci vedo più niente. Ce l'ho una torcia? No. E andiamo a dormire. Ma prima di andare a dormire, io vi saluto e vi auguro la buona giornata a voi. Spero che questo gameplay vi sia piaciuto con questo bel sfondo di stelle. Lasciate un like, un commento e se vi va iscrivetevi. E come sempre siete mitici. Alla prossima. Bye bye.